schopenhauer come annullare la volontà come sappiamo nel suo capolavoro filosofico il mondo come volontà e rappresentazione schopenhauer prospetta una originalissima rilettura di kant e identifica la cosa in sé con la volontà con il ville principio negativo che permea la realtà è un principio unitario che si estrinseca poi fenomenicamente in modi diversi è irrazionale quindi priva di obiettivi non può mai essere soddisfatta ed è perciò stesso profondamente sofferente vuole non riesce mai ad acquietarsi giacché non riesce mai a soddisfare il proprio volere illimitato ciò che caratterizza la volontà è una sorta di autocannibalismo perpetuo perché la volontà essendo nomenicamente una quando sul piano fenomenico aggredisce genera sofferenza ai mortali in realtà lo sta cagionando a se stessa la domanda fondamentale che nella sua pars construens schopenhauer pone è come annullare la volontà come paralizzare questa volontà nel suo movimento insensato e autoreferenziale in termini tecnici la domanda che pone schopenhauer è la seguente come mutare la volontà in nolontà in noluntas cioè in volontà capovolta quietata annichilita per fare ciò occorre trasformare quelle cose che ci fanno muovere come oggetti di desiderio quelli che schopenhauer chiama i motivi in quietivi i quietivi sono appunto ciò che annulla la volontà ciò che la quieta uno di essi è indubbiamente l'esperienza artistica la quale esperienza artistica spiega schopenhauer ci permette di guardare alle cose non come oggetti di volontà ma ci trasforma in un primo occhio sul mondo come dice schopenhauer ci fa assumere un atteggiamento puramente contemplativo e sganciato dalla volontà l'arte infatti mi permette di guardare la realtà nella sua dimensione ideale e dunque non fruibile ecco perché è un quietivo che mi fa uscire dal desiderio e dalla volontà quando guardiamo una natura morta ad esempio non vediamo la frutta come oggetto di desiderio ma la contempliamo come occhio sul mondo il limite dell'esperienza estetica per schopenhauer sta però nella sua durata temporale è limitata nel tempo contempliamo la natura morta al museo e quando usciamo ecco che la volontà torna a farsi sentire in noi vi è poi un'altra forma che schopenhauer identifica con l'esperienza morale quella che ci prescrive di trasformare l'altro sempre in una identificazione con sé e ciò che nei monaci buddisti è il questo sei tu di ogni ente bisogna dire questo sei tu in realtà cioè identificarsi universalmente con l'intero mondo comprendere che gli altri non sono radicalmente altra cosa rispetto a noi e questo era anche il messaggio cristiano delle origini ad avviso di schopenhauer dunque bisogna trattare l'altro sempre come un altro se stesso e fin qui potremmo dire è una ripresa anche del discorso kantiano che teorizzava appunto l'universalizzazione della propria massima morale ecco l'esperienza morale dal punto di vista di schopenhauer può essere letta come presentimento che siamo tutti la stessa cosa e da ciò scaturisce un rispetto che si può manifestare secondo vari livelli un primo livello formale astratto è quello del diritto che ci impone di non nuocere agli altri e che dunque è una morale per così dire passiva che dice non cosa fare ma semplicemente cosa non fare cosa non come non nuocere ad altri un più alto livello è dato dalla compassione dice schopenhauer dove la morale tende già a trapassare in una forma ancora più alta la compassione è letteralmente il compatire la simpatia il soffrire insieme agli altri comprendere che la sofferenza dell'altro è perciò stesso la mia sofferenza soffrire insieme agli altri questo è fondato ontologicamente in schopenhauer sul presupposto già chiarito per cui la volontà essendo una appare molteplice solo sul piano fenomenico e quindi ciò che sul piano fenomenico può apparirmi la sofferenza dell'altro in realtà sul piano nomenico è la mia stessa sofferenza perché ripeto una e soltanto una è la volontà ecco nel quarto libro del mondo come volontà e rappresentazione schopenhauer prova a mostrare come nel modo più compiuto si possa annullare la volontà trasformandola in nolontà il quarto libro del mondo è per intero dedicato a questo tema la volontà può essere rovesciata comprendendo anzitutto che cosa essa sia e soprattutto questa la via più alta che si pone al di là dell'arte al di là del diritto al di là della compassione e la via dell'ascesi che è un progressivo annullamento in sé della volontà tale annullamento nasce dalla convinzione di essere uno col tutto ossia dalla comprensione che pur nella molteplicità fenomenica la volontà è numericamente una sicché se annullo in me la volontà l'annullo anche nel mondo intero e in tutti gli altri visto che come si diceva sul piano nomenico è una e soltanto una ecco sotto questo riguardo quando schopenhauer nel quarto libro del mondo come volontà e rappresentazione teorizza l'ascetismo il suo immaginario è essenzialmente permeato dal mondo orientale dove in effetti è centrale questo tema della mortificazione della carne e della produzione di un annullamento della volontà che per questa via si capovolge in nolontà come si diceva ecco sotto questo riguardo schopenhauer dice che in realtà nessuno è ancora stato in grado di annullare la volontà benché i mistici ci siano andati per così dire vicino perché in effetti se qualcuno vi fosse riuscito il mondo non esisterebbe più si sarebbe annullata la volontà in quanto tale ecco perché la meta ultima dell'annullamento della volontà porta dice schopenhauer coincide con una sorta di nirvana il raggiungimento del nulla schopenhauer critica aspramente il nirvana prospettato dai buddhisti perché viene identificato da costoro con una sorta di beatitudine paradisiaca quasi fosse qualcosa di positivo il nulla così come lo intende schopenhauer quando parla del nirvana non è un paradiso è piuttosto un pure semplice annullamento di questo mondo e schopenhauer con queste parole si conclude il mondo come volontà e rappresentazione è esattamente questo capire che è il nulla per coloro in cui la volontà si è convertita e soppressa questo mondo così reale con tutti i suoi soli le sue vie latte questo propriamente questo è il nulla così si compie il mondo come volontà e rappresentazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti